Il disegno lì, è la foto. Oh, quell'altro l'angolo, eh? Ma non vieni troppo? Ma che ti vichina così? Ci sono avanzati. Ma stasera le distribuiscono. Andiamo da qui, parti da rossa. Angelo, fa un po' un biancaio di due. Ma ce nemmo, ce nemmo cose. Che ti metto? Che vedi, Pippo? Che ti metto? Che ti metto? Che ti metto, c'è un po' che mi continuano là. Pietro, sei e sei. Trezza, trezza. Grazie. 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 Da dove venite? State qua da quanto? Ma dormite qui? Sì. Mettete il pezzetto via. Siamo tremonti. Tutta c'è il Pasco nel cuore. Ce l'ho avuto. Sì. 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 Grazie. Sì. 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 È molto sentito. 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 Io devo tenere. Sennò a volte... Sì. Io deve essere ingegnato. Dovevi stare? E' la macchina sull'emba, non rimane fermi. La macchina si asfira. Questa è la sosta? No, lì il cavalletto, questo dove si ferma il pacchino, davanti della macchina. No, da una parte va bene, sta così. Va a girare un pochetto. Sandro! Sandro! Fallo un centro proprio! Ma come? Va bene, va bene, va bene! Come va bene? Come va bene? Non è che c'è il pochetto. Abbiamo una volta, vediamo qua! Qui c'è il ziema del mondo dei ragazzi, la vescono tutte. Visto? No, no! Quanto questo? si stanno fatto un lavoro anche detto però eh adesso andiamo diretta adesso vogliete il bar dovevo che i bari sono tutti chiusi si allunga fino a qui lei è fondamentale prima del trasporto perché cosa fa cosa ha fatto questa sera che ho fatto le strisce che ho fatto quella cosa importante però quanto tempo è che fa le strisce per i facchini senta ma lei si chiama gianni però come la chiamano superbone e come mai perché quando ero viva il barbiaretto mi assomigliavano superbone era un fumetto non mi ha visto il nome superbone sto rimasto superbone detto anche giotto infatti giotto però adesso con la mia arte faccio il voglio una vita come quella dei film voglio una vita con i facchini voglio una vita tutta sì grazie